Buon pomeriggio, qua dal nuovo di Via Olimpia, seduta di allenamento del venerdì, l'ultima seduta di questa settimana. È la volta dei ragazzi della categoria esordienti. Lì c'è mister Dario, in questo gruppo, in quest'altro gruppo se non erro è mister Anna. Da poco ho iniziato una leggera pioggerellina, per il campo va bene. Ecco, esercizi, tutti nel rispetto del protocollo. Allora stavo dicendo categoria esordienti. Da questo lato, tutto questo lato, mentre là in fondo vediamo mister Gabriele di Felice con le lady giallorosse, le ragazze della scuola calcio femminile. Ecco, esercizi con il pallone. Ecco, l'ultima è nuova, infatti lo si riconosce che ancora non indossa la divisa ufficiale. Questa è la nostra, il nostro gruppo di lady giallorosse, ragazze della scuola calcio della Virtus Castelfrentano. Prima dell'entrata nel terreno di gioco, tutti hanno osservato il rigoroso rispetto delle nonne. C'è la Giovanni, seduto nella panchina, la postazione di verifica della temperatura con... con lo scanner e tutto il resto. e dopo fanno il loro ingresso in campo. Ovviamente, in ossequo alle disposizioni degli organi competenti, i ragazzi non possono utilizzare i sfogliatoi e né tantomeno farsi la doccia. Ovviamente, arrivano già con il loro borsone, già con l'abbigliamento d'allenamento. a fine quello scappano tutti a casa e si fanno la giusta e meritata doccia. Autore dei castelli, auto, chi mi interessa. Tempo di rivelare di un corso di attacchiare. E' un corso di attacchiare, per cui si scopera del corso verso il corso. E' un corso di rivelare dei passaggi. Allora, l' Where's the Land. Si scopera della gala. E' un corso di attacchiare. ecco leonardo se non erro tutto scattante ciao dario allora sono di un gruppo di esordienti a questo lato un altro gruppo c'è mister anna ognuno c'è il suo pallone ecco qui invece sono le ragazze le ragazze le bambine le lady giallorosse della nostra scuola calcio femminile infatti abbiamo coperto tutte le le categorie compreso anche la scuola calcio femminile ecco il mister ogni tanto interrompe la passione per dare le dovute alle prossime riprese qua dal nuovo di via olimpia di castelfrentano vi abbiamo mostrato gli allenamenti dei nostri ragazzi ciao ok ok